In questo video parlo degli alberi e degli incidenti stradali Spesso la posizione degli alberi sulle strade mette a rischio la vita degli automobilisti in caso di incidente Qui sono in provincia di Modena, lungo il bordo di una strada statale molto trafficata durante tutto il giorno e che collega Modena a Carpi In caso di incidente o perdita del controllo, il veicolo, anche a bassa velocità, può andare a sbattere contro uno di questi alberi Come è successo in questi casi Schianto contro platano, gravissimi quattro ragazzi Auto contro albero, muore a 29 anni Schianto contro platano, muore padre di 5 figli Per evitare o ridurre incidenti dalle conseguenze spesso mortali le amministrazioni o gli enti che gestiscono le strade potrebbero installare dei guardrail come questi in prossimità di alberi o piante